Ciao, siamo all'opere, lago di Seo, una citazione o definisce un luogo amabilmente romantico. Tu cosa ne pensi? Fammi sapere con un commento qui sotto. E intanto, goditi il video, però come sempre iscriviti al nostro canale e metti un like. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.